amici ma soprattutto nemici bianconieri buongiorno ragazzi buongiorno 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 buon anno come sempre siamo nel 2023 siamo entrati nel 20 23 da appena due giorni e immediatamente ci catapultiamo catapultiamo nell'atmosfera campionato nell'atmosfera campionato si ritorna a respirare aria di campionato con queste big match con questo big match inter napoli che è un grande un grande big match naturalmente con le incognite ritorno al campionato non è il napoli che abbiamo lasciato non è l'inter che abbiamo lasciato quindi non sappiamo cosa potrà potrà regalarci questa partita e di conseguenza la windows deve partire forte dobbiamo assolutamente partire forte non possiamo non prendere tre punti in quel di cremona altrimenti ragazzi non abbiamo fatto nulla nel senso che qualsiasi lieve speranza di magari di accorciare la sfida o sogni di un possibile aggancio si frantumerebbero immediatamente perché questa sfida inter napoli magari potrebbe anche materializzarsi un mareggio addirittura una una sconfitta per napoli una vittoria perché se il napoli ritorna come lo ha come a casa messo e molto e molto più abbia una vittoria però diciamo dobbiamo approfittare di questa di questo big match non è semplice non è semplice anche perché nelle amichevole non ho visto una grande juventus ma sono amichevole per l'amore del cielo sono amichevole quindi lasciamo stare questa questa diciamo questo giudizio sono amichevole milano ha fatto anche diciamo debacle impressionanti con le amichevole quindi si ricomincia ci riputiamo in questo in questo in questo campionato e vediamo che succede vediamo che succede vediamo come approcciamo la partita a cremona vediamo in che modo in che condizione siamo vediamo veramente chi che squadra che squadra che squadra che squadra troveremo che squadra che squadra siamo poco nulla da dire dobbiamo semplicemente aspettare i verdetti i verdetti dobbiamo semplicemente e capire e capire veramente come come siamo perché alla fine il campo è sovrano però come ho detto prima dobbiamo assolutamente partire forte quindi speriamo che non abbiamo sempre la solita la solita filosofia attendista e ripartenza speriamo che cerchiamo magari di fare qualcosa di più propositivo anche perché adesso bisogna farlo cercare anche un po di cambiare sistema di gioco tutto la se mi chiedete qualcosa di conte perché nei commenti possibilmente qualcuno magari adesso parlerà di conte io su conte sono chiarissimo e vi dico che le parole di conte post partita non mi sono piaciute nella maniera più assoluta perché non mi piacciono questi tipi di questi tipi di frasi non mi piacciono questi tipi di atteggiamento quando si perde si perde la colpa e va divisa fra i giocatori e allenatori non mi piace questo fatto di essere sempre diciamo a pensare sempre a acquistare tizio acquistare gaio si perde si perde bisogna prendere le proprie responsabilità e basta vedo un conte vedo un conte molto 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 diciamo non è il solito conte battagliero non è il solito quando magari a legge il fatto che lui vuole cambiare aere non lo so ma le parole che ha detto post partita non mi sono piaciuto sono franco sono sincero sono onesto ma perché sono contiano ma quando uno le cose robe piacciono le dico tranquillamente niente ragazzi io aspetto aspetto oggi ne abbiamo due quindi un altro paio di giorni e si riparte con con il campionato con il calcio giocato ma si ci ingazzate fino alla fine vostri